tutto quello che sapevamo della guerra c'era stato trasmesso da voci maschili siamo tutti prigionieri di una rappresentazione maschile della guerra che nasce da percezioni prettamente maschili rese con parole maschili nel silenzio delle donne nessuno tranne me ha mai chiesto niente a mia nonna a mia madre tacciono perfino quelle che sono state al fronte seppure all'improvviso cominciano a ricordare non raccontano la loro guerra femminile ma quella maschile si adattano al canone in valso e solo in casa o piangendo nella cerchia delle proprie amiche veterane si mettono a narrare la propria guerra a rivelarla ed è una guerra sconosciuta non solo per me ma per tutti noi nelle mie trasferte di giornalista sono stata più di una volta testimone e solo ascoltatrice di storie assolutamente nuove e ne ero fortemente emozionata come dalle letture giovanili in quei racconti balenava talvolta come un digrignare di denti il terribile scintillio di un feroce mistero nelle narrazioni delle donne non c'è non c'è quasi mai ciò che siamo abituati a sentire gente che ammazza eroicamente altra gente vince o viene sconfitta e la tecnica schierata in campo e i generali i racconti femminili sono altri e parlano d'altro la guerra al femminile ai propri colori odori una sua interpretazione dei fatti ed estensione dei sentimenti e anche parole sue dove non ci sono eroi e strabilianti imprese ma semplicemente persone reali ma semplicemente persone reali impegnate nella più disumana delle occupazioni dell'uomo e a soffrirne non sono solo loro le persone ma anche i campi e gli uccelli e gli alberi ogni cosa che convive con noi su questa terra e oltre a noi a soffrire erano esseri e oltre a noi a soffrire erano esseri privi della parola in un'angoscia aggravata dall'essere muti ma come è potuto accadere me lo sono chiesta più di una volta come mai una volta acquisito e occupato il proprio peso in un mondo un tempo esclusivamente maschile le donne non hanno saputo far valere con altrettanta forza la propria storia le proprie parole i propri sentimenti non hanno creduto abbastanza di poterci riuscire neanche loro tenendoci così nascosto tutto un mondo la loro guerra è rimasta sconosciuta voglio scrivere la storia di questa guerra una storia al femminile vorrei scrivere un libro sulla guerra tale da provocare nel lettore nausea e repulsione per essa così che già la sola idea della guerra gli diventi odiosa e ne veda la demenza un libro che renda l'idea della guerra nauseante per gli stessi generali sono queste le parole con cui svetlana alexievich premio nobel della letteratura nel 2015 da inizio al suo racconto dell'epopea delle donne sovietiche nella seconda guerra mondiale quando hitler arrivò sino alle porte di mosca epopea narrata attraverso le parole e i racconti delle donne stesse donne e ragazze anche molto giovani che accorrono al fronte per difendere la patria contro lo spietato aggressore e si arruollano in centinaia di migliaia diventano un milione come infermiere radiotelegrafiste cuoche lavandaia ma anche come soldati di fanteria addette alla contraerea e carriste genieri svinatori aviatrici tiratrici scelte e via via che raccoglie le loro testimonianze l'alexievich si convince di una cosa che la guerra femminile è nella percezione delle donne anche più atroce di quella maschile e se come ovvio le donne celebrano con i comilitoni la vittoria e la fine dell'incubo bellico nella loro memoria restano incise più sensibilmente delle imprese eroiche vicende che parlano di abnegazione di compassione e di amore negato nausea e repulsione vuol provocare nel lettore e negli stessi generali dice l'alexievich l'abbiamo sentito dalle ultime parole con i suoi racconti di guerra al femminile nausea e repulsione vuol provocare anche euripide con le sue tragedie di guerra al femminile portate in scena nel teatro edioniso ad atene tra gli anni venti e gli anni dieci del quinto secolo avanti cristo ossia nel ventennio cruciale della trentennale guerra del gelo conneso il ventennio che segnò l'accelerazione decisiva verso la catastrofe delle sorti di atene la fine della grande stagione della democrazia periclea e post periclea e la fine dell'imperialismo atenese con la rassegna dei passi proposti stasera tratti da tre delle tragedie euripidee che vedono protagoniste alcune fra le più celebri eroine del mito troiano vogliamo costruire una sorta di trilogia del dolore quel dolore procurato dalle brutture della guerra che segnano in modo indelebile l'esistenza dei vinti i troiani ma anche quella dei vincitori i greci quel dolore cui sanno dar voce soprattutto le donne sia quando della guerra sono vittime e spettatrici sia quando ne sono artefici e protagoniste quella guerra che come dice da alexievich non ha un volto di donna ma a cui la memoria autentica e non protopolare le parole toccanti e non ufficiali delle donne riescono a dare un volto la trilogia del dolore che abbiamo tentato di costruire stasera procede a ritroso dall'ultima delle tragedie femminili del cosiddetto ciclo troiano l'elena rappresentata nel 412 avanti cristo un anno denso di avvenimenti per la città di atene che ancora vede l'esercito spartano accampato con un presidio permanente a decelea un demoattico costituato sulla rotta commerciale che collegava l'eubea ad atene e che sta per conoscere l'esperienza oligarchica dei 400 ebbene dall'elena si risale poi alle troiane con cui nella primavera del 415 avanti cristo alla vigilia della scelerata spedizione condotta dagli atenesi in sicilia viene portato sulla scena il dramma corale delle prigioniere troiane rese schiave soggiogate e spartite per diritto del vincitore tra gli eroi greci e si arriva infine all'ecuba rappresentata dieci anni prima nel 424 avanti cristo nel periodo di massimo espansionismo e massimo inasprimento dell'imperialismo ateniese nei confronti delle città alleate della lega delioattica e abbiamo costruito questo percorso al ritroso perché il finale vedremo subito apparentemente pacificato dell'elena che rappresenta una sorta di punto d'arrivo della riflessione anti bellicista di euripide non ci tragga in inganno perché da questo ascolto emerga con chiarezza che già nelle fasi più calde della guerra stessa quando le parti belligeranti erano più motivate e pronte a combattere e a morire per la loro causa quindi ben prima che la paura per il tracollo si insinuasse anche nella coscienza dei governanti e dei loro eserciti il senso di vacuità della guerra viene lucidamente riconosciuto dalla coscienza delle donne che a quella guerra non partecipano attivamente ma di cui subiscono sulla propria pelle le conseguenze e viene lucidamente denunciato dalle loro voci causa ed origine della guerra di troia nella mitologia greca si sa è una donna la bellissima elena moglie di menelao re di sparta rapita da pari del figlio di priamo re di troia nella omonima tragedia euripidea il problema della la responsabilità femminile della guerra è eliminato alla radice elena non è mai andata a troia ma è sempre rimasta nell'isola di faros in egitto per tutti i dieci anni della guerra e per i sette anni delle peregrinazioni di menelao ed è rimasta fedele al marito nonostante le insidie di teoclimeno il figlio del re egizio proteo a cui era stata affidata da ermes per essere poi restituita a menelao dunque solo il suo eidolon la sua immagine il suo fallace doppio sarebbe andato a troia comparide il razionalista euripide il tragediografo più vicino al dubbio socratico e alla pratica sofistica propone qui in maniera provocatoria in quella che più che una tragedia è stata da alcuni considerata una tragica media un lieto fine per la tragica vicenda della guerra di troia riprendendo il mito di elena nella versione alternativa già proposta tra fine settimo inizi sesso secolo in un componimento lirico di sesicoro la celebre palinodia cioè la ritrattazione della più nota versione colpevolista del mito di elena euripide drammatizza quella sconcertante corrosiva invadenza della finzione nella realtà e approda dicevamo prima un finale pacificato ma al contempo gravato dalla luce sinistra del nichilismo del pessimismo che nasce dal senso dell'assurdo l'assurdo di una guerra che nel 412 quando si combatteva ormai su tutti i fronti anche sul suolo attico la situazione sembrava precipitare verso il disastro e euripide doveva apparire sempre più incontrollante e devastante una guerra dalla quale il tragediografo prendeva sempre più le distanze il senso di questa guerra fortemente antimilitarista è racchiuso nelle parole con cui menelao e il suo servo prendono atto della realtà la vera elena non è mai andata a troia anzi è stata sempre una moglie fedele al re che esclama i dei ci hanno ingannati avevamo tra le mani una icona fatta di nuvole che è stata la fonte del nostro dolore il servo domanda allora vuoi dire che abbiamo sofferto in vano per una nuvola solo per questo la guerra di troia è stata insomma un inutile spargimento di sangue combattuta per un vano simulacro come a dire gli obiettivi che ci si prefigge con le guerre non sono che pie illusioni proprio come un'illusione è elena realtà incerta e lo stesso essere umano che dubita addirittura della correttezza delle proprie percezioni che senta definire la verità vedendo la contraddetta da una sua inquietante duplicazione con questa riabilitazione di questa elena spartana operata attraverso il filtro del mito e il richiamo a una nobile tradizione letteraria che affonda le sue radici dicevamo nella dirica arcaica euripidi affronta un tema politico di scottante attualità toccando le corde più sensibili i nervi più scoperti dei suoi concittadini atenesi ascoltiamo dunque il monologo pronunciato da elena nel prologo di questa tragedia la mia patria è una terra illustre sparta e mio padre è tindaro c'è però un racconto sulla mia nascita nella forma di un cigno inseguito da un'aquila zeus sarebbe volato da mia madre leda e avrebbe strappato con l'inganno un incontro d'amore non so se credere a questo racconto mi misero nome elena ora vorrei raccontarvi le mie sventure tre idee che litigavano sulla loro bellezza si recarono da alessandro in una grotta del monte ida erano era cipride e la vergine figlia di zeus e volevano da lui un giudizio definitivo cipride offrì ad alessandro il possesso della mia bellezza se si può considerare bellezza la sfortuna e ottenne la vittoria paride lasciò così i suoi pascoli dell'ida e venne a sparta per conquistare il mio letto ma era non sopportò la sconfitta e fece svanire nel nulla ad alessandro il possesso del mio corpo al figlio del repriamo non diede infatti la mia persona ma un fantasma dotato di respiro fatto con un pezzo di cielo e simile in tutto a me lui credeva di avermi ma non mi aveva aveva solo un vuoto miraggio a queste disgrazie si aggiunsero poi i disegni di zeus scatenò una guerra fra greci e i poveri frigi per alleggerire la madre terra dal peso di innumerevoli uomini e per dare fama al migliore eroe della grecia l'oggetto della difesa dei troiani il trofeo per cui combattevano i greci non ero io era solo il mio nome il messa mi aveva portato nelle pieghe dell'etere mi aveva coperto con una nuvola zeus non si era dimenticato di me e mi aveva sistemato qui nella casa di proteo aveva scelto il più virtuoso degli uomini perché conservasse puro il letto a menelao ed eccomi qui mentre il mio sposo infelice ha raccolto un esercito ed è partito per le torri di ilio in caccia dei miei rapitori per causa mia sono morti moltissimi eroi sulle rive dello scamandro io che ha sofferto tutto ciò sono oggetto di maledizioni tutti credano tutti credono che abbia tradito mio marito e abbia causato ai greci una guerra infinita elena percepisce dunque la sua bellezza come un fardello si rammarica per il suo sposo partito in guerra per recuperare lei sua sposa per i tanti che sono morti in quella guerra e soffre la sua fama di fedifraga attraverso queste sue parole euripide mostra la sostanza elusiva e beffarda e perciò la follia l'infinita crudeltà della guerra che è generata da un fantasma da una causa futile o meglio ancora inconsistente il nome di elena è ingiustamente servito da pretesto agli dei per dare inizio alla guerra elena chiarisce infatti che il suo in suo nome è scoppiata la guerra ma in realtà la sua persona non essendo mai giunta a troia si è mantenuta innocente e lo stesso nome di elena è pregno di significato è un nome portatore di dolore e di morte non è casuale che la forza del nome elene sia ribadita più riprese non solo del corso di questa omonima tragedia euripidea ma anche in altri drammi del ciclo troiano per esempio nel secondo stasimo della gamennone di eschilo il coro rintraccia i prodromi della guerra di troia per l'appunto nel nome di elena nel nome elene risuona l'odiosa radice del verbo elen il verbo della distruzione della guerra che annienta ogni cosa in elena convivono la elenaus la distruttrice di navi la elandros la distruttrice di uomini la eleptolis la distruttrice di città il nome ferale di elena è un nome omen componente inalienabile della sua storia e del suo destino nella seconda parte della tragedia dopo che con la complicità della profetessa teono è stato ordito l'inganno contro teoclimeno che consentirà alla coppia ricongiunta elena e menelao di fuggire dall'egitto e di salpare alla volta di sparta il coro torna sul punto di vista già espresso nel prologo da elena e follia cercare la gloria nella guerra ed è sciocco pensare di porre fine con la violenza alle ingiustizie se le dispute si dirimeranno con gli scontri di sangue la discordia non lascerà mai le città degli uomini e tanto più è deprecabile la guerra in atto il conflitto attuale peloponesiaco quanto un conflitto fratricida che si consuma cioè non tra greci e barbari cioè tra greci e troiani ma fra greci e greci cioè tra teniesi e spartani ascoltiamo dunque le parole del coro in questo stasino tu che abiti in luoghi coperti di fronde allietati dalla musica tu che sei l'uccello dal canto più melodioso ti invoco usignolo incline al pianto vieni qui con il tuo trillo potente che sgorga dalla gola dorata aiutami a levare il canto di dolore per elena voglio cantare le sue sciabure il dolore straziante delle donne di troia per i loro uomini caduti sotto le lance dei greci tutto iniziò quando paride l'uomo dalle nozze in fauste guidato da afrodite corse sulle distese schiumose con la sua nave barbara e tornò da sparta tornò a portare lutti alla stirpe di priamo le tue nozze elena molti dei greci sono spirati colpiti da spade o da lanci di pietre e ora stanno giù nel triste regno dei morti mentre le loro donne si sono tagliate le chiome le case sono prive di mariti molti ne uccise poi un uomo da solo che accese fuochi splendenti sulle obea cinta dalle acque li fece sbattere contro le rocce caferidi e contro le coste a picco di egea ingannandoli con le sue luci a regioni in ospitali abitate da gente che indossa vesti barbare molto lontano dalla patria giunse menelao per l'ospirare dei venti tempestosi mentre trasportava sulle navi dei greci la sua preda non preda ma causa di guerra l'immagine sacra forgiata da era cosa è dio cosa non dio cosa c'è nel mezzo quale uomo dopo lunga ricerca può dire di aver individuato l'estremo confine si vedono solo le azioni degli dei che saltano da una direzione all'altra e sfociano inesiti contraddittori e imprevedibile tu elena sei figlia di zeus in forma di uccello tuo padre ti generò nel grembo di leda ma poi in tutta la grecia sei chiamata adultera infedele nemica della giustizia e della religione non so più cosa sia sicuro nelle vicende dei mortali ho trovato vera la parola degli dei è pazzo chi cerca la gloria a suon di lancia nella battaglia è pazzo chi cerca la gloria a suon di lancia nelle battaglie è un modo rozzo di porre fine ai problemi dell'umanità se le decisioni vengono affidati alla lotta di sangue la violenza non abbandonerà mai la città degli uomini grazie a essa alla fine hanno ottenuto solo un posto sotto la terra troiana eppure si poteva risolvere con le parole la contesa sorta per te elena ora si trovano in parte giù nell'ade come fulmini di zeus le fiamme hanno aggredito le mura della città tu donna sventuratissima susciti dolori su dolori sventure che provocano pietà dopo la caduta di troia la schiavitù attende ecuba e le donne troiane che vengono spartite tra gli eroi greci cassandra andrà ad agamennone polissena sarà sacrificata sulla tomba di achille androma casaradini ottodemo ed ecuba dio disse con uno sguardo carico di nostalgia poseidone nel prologo delle troiane percorre il panorama desolante della città di troia conquistata messa a ferro e fuoco dall'esercito nemico un lungo affetto lega il dio alla città frigia in un tempo lontano egli ha costruito con apollo le mura e le torri di troia dal ricordo del passato poseidone passa alla constatazione della presente ineluttabile rovina troia è solo fumo è un deserto di rovine nemmeno l'opera degli dei è stata un baluardo sufficiente per arginare la violenza della guerra il deserto con cui hanno inizio le troiane è la sanzione di una fine senza appello quando poseidone dolente sta per abbandonare la scena giunge atena che per gli argivi ha parteggiato attivamente la dea blandisce poseidone e assicura di aver deposto l'antica ossidità perché desidera ottenere la collaborazione del dio in un piano di tutt'altro segno e la vuole ora scatenare una terribile tempesta che travolga durante la navigazione l'esercito vittorioso dei greci che sono colpevoli di aver oltraggiato il suo tempio infatti a iace ha strappato dall'altare cassandra supplici a poseidone custode politico della città sconfitta si contrappone l'instabilità e l'incoerenza di atena che dice poseidone balza da un estremo all'altro la dea e l'emblema della tiuche il favore lo sfavore divino la buona e la cattiva sorte accadono per caso e ai mortali non resta che seguire il corso degli eventi rinunciando anch'essi ad ogni coerenza come dimostra ad esempio nel corso della tragedia la fedifraga edena pronta ad adattare i suoi discorsi i suoi comportamenti alle circostanze quell'elena che all'opposto di quanto abbiamo sentito prima farà poi nella tragedia omonima fa qui un indecoroso sfoggio del proprio fascino un vero e proprio insulto al dolore delle donne di troia un'unica morale e possa suggello di questa scena iniziale delle troiane folle e quel mortale che abbatte le città e profana i tempi e le tombe già che immancabilmente prepara la sua propria rovina folle dunque l'uomo che saccheggia le città lascia il deserto dietro di sé ma a sua volta farà una brutta fine parola di poseidone che si è appena impegnato a sommergere le navi dei greci una catastrofe che però significativamente non appartiene all'orizzonte di questa tragedia ma che si realizzerà dopo la vicenda rappresentata qui sulla scena ascoltiamo dunque il dialogo che si svolge nel prodogo tra poseidone e atena le due divinità inizialmente schierate in questa guerra su fronti opposti io poseidone sono qui giunto ho lasciato l'abisso salmastro del mare geo dove i cori delle nereidi muovono in cerchio la bellissima orma del piede fin da quando tutti intorno a questa terra troiana febo e dio erigemmo torri di pietra con dritti regoli mai dal mio animo si distaccò la benevolenza per la città dei miei frigi oreissa in fumo e devastata dall'ancia argiva va in rovina infatti un uomo del parnaso e peo focense con gli artifici di pallade fabbricò un cavallo gravido d'armi e lo inviò entro le mura l'igno simulacro di morte di qui sarà chiamato dai posteri cavallo di legno poiché avvolgeva l'occulto legno delle lance deserti sacri boschi i templi degli dèi grondano strage sui gradini dell'ara di zeus erceo è caduto priamo esanime gran quantità d'oro e frigge spoglie sono condotte alle navi dagli achei i greci che mossero guerra a questa città attendono il vento propizio da poppa per tornare a vedere lieti trascorso il tempo di dieci semini le spose e i figli ed io sono vinto infatti dalla dea di argo era e da atena che unite hanno distrutto i friggi io abbandono l'inclita ilio e i miei altari quando la desolazione si impossessa funesta della città le cose degli dèi ne soffrono né usano fruire di onori di molti gemiti delle prigioniere che ricevono in sorte i loro padroni riecheggia lo scamandro alcune il popolo degli arcadi altre il popolo tessalo ha avuto in sorte o i principi degli atenesi figli di teseo quante troiane poi non ancora sono assegnate esse stanno sotto queste tende ai capi dell'esercito riservate esse esse stanno sotto queste tende ai capi dell'esercito riservate e con loro la spartana elena figlia di tindaro considerata giustamente prigioniera e questa se qualcuno vuol vederla è qui è l'infelice ecuba è l'infelice ecuba che giace davanti alla porta versanto tante lacrime e per tanti lutti a lei a lei a sua insaputa una figlia presso la tomba di achille miseramente morta polissena scomparso scomparso anche priamo e i suoi figli la vergine chiapollo sovrano abbandonò al delirio profetico cassandra a viva forza la prende furtiva unione agamennone trascurando il rispetto per il nome tutto ciò che è sacro addio città un tempo fortunata e levigata cinta di mura se non ti avesse distrutto pallade figlia di zeus saresti ancora ferma su solide fondamenta è possibile a chi per parentela mio padre più vicino possente nume tra gli dèi onorato rivolgere la parola a posto fine all'inimicizia di un tempo sì certo i rapporti tra parenti o atena sovrana sono non piccola lusinga per l'animo l'odo la tua mietezza reco discorsi di interesse comune per te e per me signore forse da parte di qualche dio novità annuncerai da parte di zeus o di un'altra divinità no ma è per troia dove ora il nostro piede si posa che a te sono giunta e al tuo potere per averlo alleato ma forse dunque deposta l'inimicizia di un tempo sei venuta a compassione di troia ora che è ridotta in cenere dal fuoco prima di tutto tieniti al punto condividerai i miei discorsi e parteciperai a ciò che io desidero compiere sicuramente ma voglio conoscere anche la tua posizione è per gli akei che sei venuta o per i frigi i troiani che prima erano a me odiosi voglio render lieti all'esercito degli akei invece infliggere un amaro ritorno ma come mai salti così da un atteggiamento ma come mai salti così da un atteggiamento all'altro e senza misura odi e ami chi ti capita non sai che ho subito il traggio io e il mio tempio lo so quando ajacio trascinò via cassandra con la forza nulla costui subì da parte degli akei né senti rimprovero eppure con la tua forza hanno distrutto troia perciò col tuo aiuto voglio far loro male per parte mia sono pronto in quel che tu vuoi cosa intendi fare in fausto ritorno voglio infligger loro mentre sono ancora a terra oppure sul salso mare quando da troia navigheranno verso le loro case e zeus manderà pioggia e grandine infinita e tenebrosi soffi d'aria a me promette di dare il fuoco del suo fulmine per colpire gli akei e incendiarne le navi tu poi per parte tua rendi il mare geo fremente di enorme onde e di vortici marini e colma di cadaveri la profonda insenatura dell'eubea perché per l'avvenire imparino gli akei a rispettare i miei tempi e a venerare anche gli altri dei sarà così questo mio favore non ha bisogno di lunghi discorsi sconvolgerò la distesa del mare geo le rive di micono e le rocce di delo e sciro e l'emno e il promontorio caffareo avranno i corpi privi di vita di tanti morti ma ora muovi verso l'olimpo e prendi dalle mani di tuo padre i darvi delle folgori e aspetta fin quando l'esercito argivo allenterà legomene stolto è tra i mortali colui che distrugge le città e abbandona la desolazione i mortali colui che distrugge le città e abbandona la desolazione i templi e le tombe sacre dimore dei morti e gli stesso in seguito è destinato a perire queste che concludono il dialogo tra le due divinità che sono spettatori distanti e implacabili in seguito del tutto assenti delle miserie umane sono parole profetiche in quanto preannunciano la catastrofe che distruggerà la flotta greca durante il ritorno da troia e disseminerà di cadaveri le acque dell'eugeo in queste parole si può ritrovare condensata l'essenza stessa del pensiero antibedicista di oripide un pensiero dissonante in un'atene che nell'estate precedente aveva aggredito la piccola isola di melo quell'isola che si era proclamato a neutrale nella guerra con sparta ed era perciò riluttante ad entrare nell'orbita ateniese ebbene atene ne aveva sterminato gli abitanti ne aveva reso schiave le donne i bambini ebbene quell'atene che di lì a pochi mesi avrebbe deliberato e progettato la sciagurata spedizione in sicilia che come abbiamo detto si rivederà catastrofica dunque quella polis che sperimenterà su se stessa il rovesciarsi della sorte profetiche dunque le parole di oripide non solo per i greci vincitori a troia ma anche per gli ateniesi che con la condotta arrogante immorale in generale poco lungimirante tenuta nei momenti della guerra con sparta in cui erano al culmine della loro potenza condanneranno la propria città a una sconfitta umiliante coinvolgendo in un medesimo destino di distruzione vinti e vincitori e oripide condanna dunque senza riserve la guerra e ridimensiona i fondamenti ideologici dell'illimitato espansionismo ateniese nessuna prova del resto le parole pronunciate nelle supplici un'altra tragedia dissonante profetica se si pensa che sono state messe in scena negli anni 423 422 circa avanti Cristo quindi nel momento in cui più convinto e vincente era ad atene il partito della guerra le parole pronunciate dicevano le supplici dall'araldo tebano questa volta da un uomo l'araldo tebano cerca di persuadere il re ateniese tesio al quale si sono rivolte supplici appunto le madri dei guerrieri argivi caduti nella guerra con tebe perché egli ottenga tesio ottenga la restituzione dei cadaveri dei loro figli ebbene l'araldo tebano cerca di convincere di persuadere tesio a non ingaggiare per questa causa che da un certo punto di vista è comunque una giusta causa una guerra con i tebani l'araldo tebano ricorda tesio che è in fida la speranza che più volte ha portato allo scontro le città suscitando nei cuori lo svegno quando la guerra arriva al voto del popolo nessuno pensa alla sua propria morte ma prevede per gli altri la rovina ma se morte fosse innanzi agli occhi durante il voto la follia di guerra mai non avrebbe rovinato l'ellade tra due scelte noi uomini sappiamo quale compiere e il buono e il cattivo sappiamo quanto sia meglio la pace della guerra per gli uomini l'una è amicissima le muse nemica le pene si diletta di progenie seconda di ricchezze ma noi stolti scegliamo al suo posto la guerra e asserviamo i più deboli tra gli uomini e le città bene a dispetto dell'arroganza e dell'aggressività che connotano questo personaggio l'araldo tebano nelle supplici gli argomenti che egli mette in campo in relazioni tanto ai limiti della democrazia atenese quanto della guerra in sé non mancano di forza ed è significativo che nel corso del serrato dibattito intorno alla migliore forma di governo che vedrà contrapposto l'uno all'altro il re atenese tesio il campione del regime democratico non riesce a contrapporre nessun nessun argomento decisivo agli argomenti anti bellicissi dell'araldo ma appunto in quanto dissonante oltre che profetico un se fatto in questo messaggio pacifista non poteva che essere affidato meglio ai volti ai corpi alla voce delle donne segnate dal dolore della guerra quelle maschere di dolore che sono divenute dopo la caduta della loro città le più illustri donne di troia ecuba cassandra polissena andromaca e tutte le altre prigioniere che formano il coro e che sono sulla scena euripidea l'incarnazione plastica dell'orrore dell'insensatezza e del paradosso della guerra il loro dolore esplode in episodi distinti raffigurati sulla scena come quadri che alimentano il pathos di questa tragedia che è una delle più corali di tutto il teatro greco antico tragedia in cui i ritratti di ciascuna di queste donne e le narrazioni del loro personale calvario mettono nudo il volto antieroico della guerra tragedia corale dunque tragedia del dolore in cui però il groviglio emotivo del pathos è ancora una volta concentrato sul personaggio di ecuba che presente sulla scena dall'inizio alla fine di fatto è la protagonista della tragedia nei versi che ascolteremo ora ecuba accacciata al suolo al principio della tragedia si rifiuta di accogliere il soccorso delle sue ancelle delle ancelle che compongono il coro le quali vorrebbero aiutarla a rialzarsi a riprova della propria umiliante condizione e dell'assenza di ogni speranza di riscatto il ricordo del suo passato della sua vita precedente rende tangibile la perdita di identità nel presente un tempo ecuba sedeva un trono ora invece accasciata davanti alle tende dei vincitori un tempo era regina ora la tende una vita da schiava il corpo di ecuba che le sue serve cercano di risollevare da terra incarna plasticamente emblematicamente l'icona della comunità che ella rappresenta non a caso nei versi successivi la regina paragonerà se stessa a una nave in balia delle onde del mare in tempesta che è una metafora nota nella tradizione poetica antica e moderna dello stato squassato dalla guerra o dalle lotte intestine ascoltiamola custodi dell'anziana ecuba non vedete come la vostra padrona in silenzio cade distesa non volete prenderla o abbandonerete malvagia una vecchia caduta al suolo mettete ritto il suo corpo no ciò che non è gradito non piace o fanciulle lasciatemi cadere o giacere a terra cose tali da cadere a terra soffro ho sofferto e ancora soffrirò o dei cattivi alleati sono questi che io invoco tuttavia ha una sua dignità invocare gli dèi quando uno di noi incorre in una sorte sventurata per prima cosa dunque mi è caro cantare il bene al male infatti maggior lamento attribuirò ero regina e mi sono sposata in casa di re e qui ho generato figli eccellenti non solo numero ma i migliori tra i friggi e figli tali non vedo una troiana né greca né barbara che possa vantarsi scusate che possa vantarsi di averne mai messi al mondo eppure quei figli li ho visti cadere sotto la lancia greca e questi capelli ho reciso sulle tombe dei loro corpi e priamo colui che li ha generati l'ho pianto non per aver sentito da altri la sua fine ma io stessa con questi miei occhi l'ho visto sgozzato sul focolare dell'altare domestico e la città conquistata e le figlie che ho allevato per lo speciale onore dei loro sposi per altri le ho allevate mi sono state strappate dalle mani e che io sarò rivista da costoro non c'è speranza e io stessa mai più le rivedrò mai infine coronamento dei miei miseri mali come schiava io vecchia giungerò in grecia e alle cose che per una tale vecchiaia sono le più disgraziate a queste mi assegneranno osserva la porta custodire le chiavi io la madre di ettore o preparare il pane e avere un giaciglio sul suolo con le mie spalle rugose dopo letti regali indossando laceri cenci su un corpo lacero disdicevoli a portarsi per chi godette della prosperità ai povera me per le sole nozze di una sola donna quali cose mi sono toccate scusate ai povera me per le sole nozze di una sola donna quali cose mi sono toccate quali ancora mi toccheranno o figlia o cassandra che ti unisce agli dei nel delirio per quali sciagure hai sciolto la tua castità e tu o infelice dove sei mai polissena né prole maschile né femminile molti figli mi erano nati soccorre questa sventurata perché dunque mi mettete in piedi per quali speranze portate questo mio piede delicato in tempo a troia e ora invece schiavo portatelo a un giaciglio di foglie steso per terra e a un manto di pietra affinché io vi cada sopra e perisca consegua e perisca consumandomi in lacrime e di quelli che sono fortunati non ritenete nessuno felice prima che muoia se ecuba riunisce nel proprio corpo il femminile e la vecchiaia il piccolo astianatte il figlio di odisseo hanno deciso di ucciderlo perché il supersite maschile della famiglia regale troiana potrebbe trasformarsi in un pericoloso vendicatore il bambino sarà perciò gettato da le mura come l'araldo a che o tal tibio annuncia ad andromaca tanto la madre andromaca quanto più avanti la nonna ecuba indugiano sui particolari della tenera fisicità di questo bambino la sua bocca la sua pelle la sua chioma madre e nonna gridano la vergogna di questa morte la barbarie dei civilissimi greci che vengono paragonati da andromaca a cannibali che banchettano con le carni di un bimbo sulla tomba del piccolo deposto simbolicamente nello scudo di ettore deve essere incisa come afferma ecuba un epigrafe di infamia per la crudeltà dei vincitori che spinti dalla paura del tutto irrazionale hanno ucciso un innocente la presenza di ettore più volte elogiato nel corso del dramma si materializza nelle tracce corporee lasciate sul suo scudo il sostegno deformato in cui infilava il braccio muscoloso le macchie di sudore che gli colava dalla fronte durante la battaglia nell'abbraccio paterno di quello scudo e sepolto a stianatte ascoltiamo dunque il lamento della madre andromaca e di seguito quello della nonna ecuba o sposa di ettore una volta prima il più valoroso dei frigi non odiarmi malvolentieri ti annuncerò messaggi comuni dei danai e dei pelopidi che cosa c'è come ai miei inizi con preludi funesti è stato deciso che questo bambino come riferire il discorso forse che lui non avrà il mio stesso padrone nessuno degli atrei nessuno degli atrei sarà mai il suo padrone qui dunque sarà lasciato o relitto dei frigi non so come riferirti facilmente delle sventure l'odo il tuo ritegno ma non quando tu dici sventure uccideranno tuo figlio perché questa grande sciagora tu la prenda coi me che sventura è questa che sento più grande delle mie nozze ha prevalso ulisse in mezzo a tutti i greci dicendo sì ahimè non hanno misura ai mali che soffro ha detto di non far crescere il figlio di un padre tanto valoroso possa ulisse in tal modo prevalere riguardo ai suoi stessi figli e che bisogna precipitarlo dalle rocche di troia perciò così avvenga e tu ti mostrerai più saggia non avvinghiarti a lui soffri nobilmente le tue sciagure non pensare di essere forte mentre nulla tu puoi infatti in nessun modo hai possibilità di opporti bisogna riflettere è perita la città il tuo sposo e tu sei dominata e noi siamo capaci ben di combattere contro una donna sola per queste ragioni io ti proibisco di desiderare lo scontro e di fare qualcosa di turpe e di ostile e anche di lanciare maledizioni sugli achei se infatti direi qualcosa per cui l'esercito si adirerà questo bambino non verrebbe più sepolto né otterrebbe compianto se tu tacerai e acquisirai di buon grado la tua sorte non lascerai insepolto il suo cadavere tu stessa troverai più benevoli gli achei o figlio carissimo onorato più di ogni altra cosa per mano dei me scusate o figlio carissimo onorato più di ogni altra cosa per mano dei nemici morirai lasciando la madre infelice la nobiltà del padre tuo ti ucciderà nobiltà che per gli altri è salvezza l'eccellenza di tuo padre non te è stata utile o mio letto sfortunato e sfortunate nozze per le quali vengi un tempo nella casa di Ettore per generarvi mio figlio non come vittima per i danai ma come sovrano dell'asia molto feconda o figlio tu piangi t'accorgere i tuoi mali perché mai afferrato con le mani e ti tieni stretto alle mie vesti come un uccellino rannicchiato sotto le mie ali non verrà Ettore afferrando la sua gloriosa lancia né uscirà dalla terra a portarti salvezza né verrà la parentela del padre nella forza dei frigi con un messo funesto precipitando a capofitto dall'alto spietatamente spezzerai il tuo soffio di vita o fresco abbraccio assai caro alla madre o dolce respiro della pelle inutilmente dunque in fasce ti nutri questo seno in vano mi affaticavo e mi consumai nella fatica ora un'altra volta mai più saluta tua madre stringiti a chi ti ha generato avvolgi le braccia intorno alle mie spalle lei accosta la tua bocca o greci inventori di barbara e crudeltà perché uccidete questo bambino che di nulla ha colpa o germoglio di tindaro tu non sei figlia di Zeus ma da molti padri io dico che tu sei nata primo il demone vendicatore poi l'astio quindi l'assassinio e il lutto e quanti altri orrori nutre la terra infatti mai potrò credere che Zeus abbia generato te rovina di tanti barbari e greci maledetta dai tuoi bellissimi occhi turpemente hai distrutto le insigni frige pianura dunque trascinate portate gettate se gettare è deciso cibatevi delle sue carni per volontà degli dèi la nostra fine è giunta e al figlio mio non potremmo stornare la morte coprite il mio misero corpo e gettatelo sulle navi ad un bell'imeneo io vado dopo aver perduto la mia stessa creatura infelice troia innumerevoli vite hai perduto per colpa di una sola donna e di un odioso letto ecuba un solo remaggio di nave è rimasto e sta per trasportare il restante spoglie del figlio di Achille alle coste di Ftia lui neotolemo è già salpato poiché nuove sventure per Peleo ha sentito che lo ha cacciato dalla sua terra casto prole di Pelia perciò più rapidamente di quanto avesse piacere di indugiare è partito e con lui Andromaca che a me molte lacrime ha fatto sgorgare quando si allontanava da questa terra levando gemiti per la sua patria e salutando la tomba di Ettore e chiese a Neottolemo di dar sepoltura a questo corpo che è caduto dalle mura ha perso la vita lui la prole del tuo Ettore e il terrore degli Achei, questo scudo dal bronzio d'orso che il padre di Costù intorno ai fianchi agitava ella chiese di non portarlo al focolare di Peleo né nello stesso talamo dove andrà sposa lei Andromaca, la madre di questo morto spettacolo doloroso ma su questo scudo invece che in una bara di cedro e in pietrosi involucri ella chiese di seppellire il figlio e di consegnarlo nelle tue braccia perché tu avvolga il suo corpo con peple e corone per quanto tu puoi secondo il tuo stato poiché ella è partita e la premura del suo padrone le impedì di consegnare lei stessa il figlio alla tomba noi dunque quando tu avrai addobbato il morto copriremo questo di terra e leveremo la nave tu al più presto compi ciò che è stato ordinato da una fatica almeno ti ho liberata attraversando infatti le correnti là dello scamandro ho lavato il suo corpo e ne ho deterso le ferite ebbene andrò a scavare per lui una fossa profonda perché convergendo insieme il mio compito e il tuo in breve tempo facciamo muovere il remo verso casa deponete al suolo lo scudo ben arrotondato di Ettore spettacolo doloroso e non gradito per guardarsi per me o voi che avete il vanto della lancia maggiore del senno o Achei che cosa temendo di questo bambino avete compiuto un'inusuale uccisione temendo che un giorno egli avrebbe risollevato Troia caduta nulla dunque valete voi se noi veniamo massacrati quando Ettore aveva successo in campo e con lui un'altra innumerevole schiera e poi presa la città e distrutti i frigidi tale bimbo avete avuto timore non approvo la paura se uno teme senza valutare con la ragione oh carissimo come per te giunse sventurata la morte se infatti fossi morto per la città avendo ottenuto giovinezza, nozze e potere pari agli dèi tu saresti stato felice se felicità c'è in alcuna di queste cose ora tutto tutto ciò tu non lo hai non lo hai mai visto scusate ora tutto ciò tu non l'hai visto né conosciuto nella tua anima né lo sai o figlio eppure avendolo in casa non ne hai goduto infelice come miseramente la mura scusate infelice come miseramente le mura dei padri la città turrita dell'ossia hanno reciso dal tuo capo i riccioli che a tua madre tanto ha curato scusate infelice come miseramente le mura dei padri la città turrita dell'ossia hanno reciso dal tuo capo i riccioli che tua madre tanto ha curato e baciato quel capo da cui spezzate le ossa gorgoglia fuori il sangue ma non voglio continuare a dire cose brutte umani che dolce somiglianza vede con quelle del padre e dissolte nelle giunture giacete davanti a me oh cara bocca che spesso pronunciavi vanterie sei finita mi mentisti quando gettandoti nelle mie vesti dicevi madre certo per te una folta ciocca dei riccioli mi reciderò e alla tua tomba condurrò il corteo dei miei compagni guidandoti il caro saluto ma non tu seppellisci me ma io vecchia senza più patria senza più figli seppellisco te più giovane misero corpo oimè i tanti abbracci e le mie cure e quei sogni sono cosa passata per me che cosa mai un poeta potrebbe scrivere di te sulla tomba questo bambino lo uccisero un giorno gli argivi per paura disonore per l'ella di questa iscrizione ma dunque pur non avendo ottenuto i beni paterni avrai tuttavia lo scudo dal dorso bronzio in cui sarai sepolto o tu che il braccio bello di Ettore proteggevi tu hai perduto il tuo custode migliore come dolce nella tua impugnatura resta l'impronta e nei bordi ben torniti dello scudo il sudore che Ettore spesso dalla fronte stillava nelle fatiche quando ti avvicinava al suo mento portate recate da quel che resta l'ornamento per il misero corpo non per lo sfarzo il Dio assegna tali vicende ma delle cose che ho tu queste riceverai stolto e tra i mortali colui che ritenendo di avere saldamente buona fortuna se ne compiace per i tuoi comportamenti la fortuna come un uomo capriccioso salta ora qua ora là e nessuno mai sarà lui stesso felice con la restituzione del cadavere di Astianatte nel secondo dei due brani che abbiamo ascoltato si giunge al culmine del pathos Andromaca è stata costretta a partire in fretta al seguito di Nottolemo e il compito di comporre il corpo straziato del bambino e di dargli sepoltura spetta alla nonna Ecuba nonna e nipote si incarnano sulla scena il passato perduto e il futuro negato ed è ancora l'anziana Ecuba un tempo regina di Troia a valicare nella sua sete di vendetta il confine tra umano e divino attraverso una metamorfica bestializzazione esemplarmente drammatizzata da Euripide sulla scena del teatro ateniese degli anni 20 del quinto secolo quindi nel pieno della guerra del Peloponnese nel momento in cui l'ispansionismo era al suo culmine nella tragedia a lei intitolata la tragedia è ambientata sulle spiagge del Kherson esotracio di fronte alla città di Troia lì dove è allestito l'accampamento dell'esercito greco di ritorno dalla spedizione Ecuba è qui prigioniera dell'esercito greco e da prigioniera dopo aver patito la perdita di innumerevoli figli tra i quali anche il prediletto Ettore dello sposo Priamo e della patria assiste a un ulteriore estremo orrore cioè al duplice omicidio di due suoi giovani figli innocenti Polissena sacrificata sulla tomba di Achille e Polidoro l'ultimo discendente maschio di Priamo ucciso da Polimestore il re di Tracia al quale era stato affidato da bambino e che dopo la caduta di Troia elimina il principe troiano e si appropria dell'oro lasciato in deposito dai troiani e questo orrore a scatenare nella seconda parte della tragedia la terribile vendetta di Ecuba che si realizzerà con l'ausilio delle prigioniere troiane con furia sovrumana subumana disumana ucciderà gli inermi e innocenti figli di Polimestore e accecherà lo stesso re questa vendetta verrà poi presentata da Ecuba ad Agamennone signore dell'esercito greco in partenza da Troia come strumento giusto e necessario di reciproca restituzione del male subito come unica via per preservare la convivenza umana e civile occorre dunque sconfinare nel bestiale per salvaguardare l'umano questo è il paradosso dialettico di Ecuba che risulterà peraltro vincente nel confronto con Agamennone quello perpetrato da Polimestore dopo la caduta di Troia contro le sacre reggi dell'ospitalità e per di più per mera avidità di denaro è un crimine orrendo giacché il re non solo ha crudelmente ucciso smembrato e mutilato orrendamente il proprio ospite un giovinetto innocente ma non gli ha neppure tributato i giusti onori funebri gettandolo in mare e lasciandolo deturpare sfigurare dai flutti e rendendolo irriconoscibile alla propria stessa madre si tratta di una duplice violazione che supera non solo i vincoli di ospitalità che avrebbero dovuto proteggere Polidoro ma anche più in generale i limiti e le norme più elementari della convivenza umana un orrore distanziato dal filtro del mito ma in verità attualissimo se si pensa al progressivo indurimento della politica atenese un caso fra tutti emblematico è l'esemplare punizione la scioccante punizione inferta alla cittadina di Scione nella Calcilica ribellatasi ad Atene nel corso della guerra la cui popolazione maschile viene perciò falcidiata e subisce la stessa sorte toccata dieci anni dopo agli abitanti di Melo nel brano che ascolteremo ora tratto dal prologo della tragedia Odisseo già caratterizzato in precedenza dal coro come furbo furfante demagogo tutto dolci parole demagogia spiega ad Ecuba che è segno di intelligenza e saggezza per accettare la sorte decisa da chi detiene potere di vita e di morte Ecuba rammenta a Odisseo il momento in cui lei gli ha salvato la vita a Troia e lo esorta a ricambiare la caris il favore ricevuto e per tutta risposta Odisseo si impegna a salvare la vita di Ecuba ma non quella di Polissena restituendo dunque il favore alla sola Ecuba Odisseo rifiuta qualunque legame di filia con l'anziana regina sul punto la distanza tra i due personaggi è netta se Ecuba paragone l'eroe a un demagogo che in assemblea dismette i propri legami di filia per ringraziarsi i favori del popolo Odisseo chiude la partita affermando che non può esserci filia tra greci e barbari ascoltiamo questo dialogo tu donna io credo tu sappia la decisione dell'esercito la risoluzione che è stata approvata ma lo stesso la dirò gli Achei hanno deciso di uccidere tua figlia Polissena in sacrificio sul tumulo alto della tomba di Achille ordinano a noi di scortare e accompagnare la fanciulla sovraintenderà questo sacrificio il figlio di Achille e ne sarà il sacerdote tu sai quindi quel che devi fare non farti strappare da lei con la forza non venire alle mani con me non lottare riconosci la forza dei tuoi mali di adesso anche in mezzo alle sventure è saggio avere buon senso una lotta ma aspetta una lotta crudele a quel che sembra piena di gemi tono un vuoto di pianto e io non sono morta quando era meglio morire per me ora lo capisco Zeus non mi ha fatto morire ma continuo a tenermi viva per farmi vedere dolori che superano ogni volta i dolori di prima se è permesso a una schiava rivolgere a uomini liberi domande che non portino dolore che non pungano i loro cuori bisogna che da te sia stato detto e che tu ascolti noi che ti chiediamo queste cose chiedi ti ha concesso il tempo io non te lo nego hai in mente la volta che venisti a Troia come spia il tuo aspetto era orribile è ricoperto di poveri stracci e dagli occhi ti stillavano gocce di sangue sul mento sì toccò il profondo del mio cuore e chi ti riconobbe Elena e lo disse solo a me ci ricordiamo di aver corso un grande pericolo scusate ci ricordiamo di aver corso un grande pericolo e mi supplicasti disperato toccandomi i ginocchi moriva la mia mano nel tuo peplo eri allora mio schiavo ti ricordi che dicesti? discorsi invenzioni parole non volevo morire non ti salvai forse non ti feci uscire dal paese è per questo che adesso io vedo la luce del sole e questo non dimostra il tuo squallore se proponi il sacrificio hai ricevuto da me i favori che tu dici e non fai nulla per noi anzi ci fai tutto il male che puoi voi che cercate gli onori dati a chi parla alle folle quant'è ingrata la vostra razza demagogia se potessi non conoscervi a voi non importa di far male a degli amici se soltanto riuscite a dire qualcosa per far piacere alle masse che trovata pensavano che fosse votare la morte per questa ragazza e forse la necessità che gli spinge a fare un sacrificio di esseri umani sulla tomba dove invece sono i vuoi che bisogna immolare oppure se a chi le vuole punire con la morte chi l'ha fatto morire ha ragione a puntare la condanna su di lei lei non gli ha fatto nulla di male era Elena la vittima che lui doveva domandare per la tomba è lei che l'ha ucciso e l'ha fatto venire qui a Troia se invece è una prigioniera speciale che deve morire qualcuna che spicchi per bellezza non tocca a noi questo vanto la figlia di Tindaro è quella che più si nota per fascino e le sue colpe non sono meno grave di quelle dei troiani come abbiamo dimostrato questo è quanto io dico lottando sulla base dell'idea di giustizia ora invece ascolta quello che tu devi darmi in cambio quando io te lo chiedo ma hai supplicato in ginocchio tu stesso lo dici toccando la mia mano e questa vecchia mia guancia la tua guancia e la tua mano io tocco pregandoti in cambio ti richiedo indietro il favore di allora ti supplico non strapparmi mia figlia dalle braccia non portatela a morire i morti sono già abbastanza lei è la mia gioia il mio oblio dei dolori la mia consolazione in cambio di così tanto lei è per me città nutrice bastone guida della strada chi comanda non deve comandare ciò che non si deve la nostra fortuna non pensate di averla per sempre anche io una volta ero qualcuno ma ora non sono più nessuno un giorno è bastato a strapparmi tutte quante le ricchezze tu caro volto mento che io supplico abbi pietà di me abbi compassione vai dall'esercito dei greci persuadili che è odioso uccidere donne che prima pur avendole strappate dagli altari avete risparmiato donne di cui avete avuto compassione sui delitti di sangue voi avete una legge uguale per tutti per uomini liberi e schiavi il tuo prestigio se anche tu dovessi fare un discorso cattivo il tuo prestigio da solo non mancherà di persuadere lo stesso discorso ha ben diverso valore se viene da gente che gode di stima o da persona che ha grande reputazione ecuba accetta di imparare non pensare nemico che ti parla con saggezza se anche il tuo cuore è infuriato la tua vita di te grazie alla quale io ebbi buona sorte io sono pronto a salvarla non lo nego ma quello che ho detto davanti a tutti non posso rinnegarlo ora che Troia è stata catturata dobbiamo dare in sacrificio tua figlia all'uomo migliore dell'esercito dato che lui ce lo chiede è proprio questa la ragione scusate è proprio questa la ragione per cui tante città vanno in crisi se un uomo di valore e coraggioso non riceve ricompense maggiori di chi è inferiore a lui e per noi Achille è degno di onore è l'uomo che ha avuto la morte più gloriosa combattendo per la Grecia non sarebbe un disonore tenerlo caro come amico da vivo e quando è morto non trattarlo più come tale ammettiamo di darti ragione che cosa si dirà allora nel caso si debba di nuovo radunare l'esercito e combattere i nemici penseremo a combattere o rimanere attaccati alla vita vedendo che i morti non ottengono onore se da vivo avessi anche soltanto poche cose per la vita quotidiana io per me mi basterebbe completamente la mia tomba però io vorrei vederla onorata è un segno di gratitudine che dura nel tempo tu dici che le tue sofferenze sono degne della nostra compassione certo ma ascolta quello che io ti rispondo anche in Grecia da noi ci sono donne anziane uomini avanti negli anni non meno infelici di te spose private di mariti coraggiosi i loro corpi ricopri qui la polvere dell'ida sopporta questa tua pena e quanto a noi se è sbagliato il nostro costume di onorare i valorosi ci saremmo meritati l'accusa di essere degli idioti crudeli voi barbari però voi continuate pure a non trattare da amici gli amici e a non rispettare scusate e a non rispettare chi è caduto in modo valoroso così la Grecia continuerà a prosperare e voi avrete una sorte che rispecchia le vostre decisioni Ecuba rifiuta dunque l'idea che vera Sofia vera saggezza sia adeguarsi alla scelta dell'esercito di condannare al sacrificio Polissena che trovata che sofisma pensavano che fosse votare la morte per questa ragazza e sostiene che l'indegna Elena non Polissena debba pagare con la vita le proprie colpe a prevalere sarà ovviamente il vincitore Odisseo ma Ecuba imparerà ad usare l'argomento della Sofia contro Polimessore per trarlo in trappola con i suoi figli e mettere in atto la sua vendetta Ecuba imparerà dalla violenza di Odisseo e dalle proprie sconfitte a conciliare opportunismo e retorica e per affermare la giustizia ricorrerà a ciò che l'ideologia greca considerava proprio della psicologia femiglia cioè la capacità di ingannare nel brano nel brano che segue Taltibio racconta ad Ecuba della morte di Polissea la quale dopo aver ottenuto di essere sciolta dai lacci e sacrificata da donna libera sulla tomba di Achille denuda il suo busso e si offre alla spada di Neottolemo Polissea non si sottrae al proprio destino ma chiede anzi di essere colpita al petto come un intrepido combattente o in alternativa di essere colpita alla gola che è per converso il punto del corpo prescelto nell'uccisione delle vittime sacrificate ed evoca in tal modo una macabra equazione tra il sacrificio di una vergine sull'altare della ragion di stato e la sua unione coniugale con Ade il dio dei morti il suo sacrificio è un atto nobile disinteressato l'eroina offre eroicamente spontaneamente la propria vita al nemico a differenza di Ifigenia Polissena si sacrifica spontaneamente non per il bene della propria comunità ma per onorare il nemico che ha sterminato la propria famiglia e la propria città ascoltiamo il commosso racconto del sacrificio di Polissena dalle parole di Taltibio all'araldo dei Greci dunque dal punto di vista dei vincitori l'araldo di Taltibio non riesce a rimanere indifferente resta profondamente turbato da questo atto di eroico ardimento femminile doppio pianto per pietà di Polissena tu vuoi sia questo il mio guadagno ora a raccontare la disgrazia bagnerò i miei occhi di lacrime così come feci sul sepolcro quando lei fu uccisa tutta la truppa al completo dell'esercito greco era presente davanti alla tumba per il sacrificio di tua figlia il figlio di Achille la prese per mano e la condusse al sommo del tumulo io ero vicino ci seguivano dei giovani Achei ben scelti fra tutti le loro mani dovevano fermare gli spasmi di tua figlia la giovenca condotta al sacrificio una coppa d'oro la prese e la riempì il figlio di Achille la sollevò con la mano come l'ibagione per il padre morto mi dà il segno di ordinare a tutto l'esercito dei greci di rispettare il silenzio io dissi queste parole presentandomi in mezzo a loro tacete voi greci in silenzio stia tutto l'esercito taci stai in silenzio riportai la bonaccia tra la folla lui disse figlio di Peleo padre mio accetta queste mie libagioni che incantano i defunti che evocano i morti vieni bevi il puro sangue nero di questa ragazza è il dono dell'esercito per te è il mio dono sii propizio a noi concedici di sciogliere le prue e le funi delle navi di ottenere un ritorno propizio da Ilio da arrivare in patria a tutti così lui parlò e l'esercito tutto aggiunse la sua preghiera poi prendendola per l'elsa estrasse dal fodero la spada scusate poi prendendola per l'elsa estrasse dal fodero la spada coperta d'oro e diede il cenno ai giovani scelti dall'esercito dei greci di prendere la fanciulla appena lei se ne avvide pronunciò queste parole uomini di Argo voi che avete saccheggiato la mia città io muoio per mia libera scelta che nessuno tocchi il mio corpo offrirò il mio collo con coraggio vi prego per gli dèi lasciatemi libera perché libera io muoia scusate vi prego per gli dèi lasciatemi libera perché libera io muoia e poi uccidetemi tra i morti è vergogna per me avere il nome di schiava io che ero regina la folla gridò di sì e il sovrano Agamemno ne ordinò alle giovani guardie di lasciare la fanciulla ed essi non appena intesero l'estremo comando di colui che detiene il potere supremo la lasciarono lei come sentì questo comando dei sovrani prese il peplo al sommo della spalla lo strappò fino ai fianchi a metà dell'ombelico mostrò i seni e il petto meravigliosi come quelli di una statua poggiando a terra il ginocchio pronunciò parole piene di coraggio più di ogni altro discorso ecco giovane neottolemo se il petto che tu vuoi colpire è qui colpiscilo se vuoi ferire al collo è qui pronta la mia gola lui che per pietà della fanciulla non voleva e insieme voleva tagliò con la spada i canali del respiro sgorgarono i fiotti e lei pur mentre moriva ebbe grande cura di cadere con de coro nascondendo quel che bisogna nascondere agli occhi degli uomini quando spirò l'ultimo respiro per la ferita mortale tutti gli argivi si diedero da fare ciascuno in modo diverso alcuni di loro gettavano foglie alla morta con le mani altri ammucchiavano la pira portando rami di pino e chi portava così rimproverava chi non lo faceva disgraziato stai lì fermo non hai per la fanciulla un vestito un ornamento nelle mani va porta qualche offerta per lei che ha mostrato il più grande coraggio e di essere più nobile nell'animo questo è ciò che posso dirti di tua figlia e di come morì vedo che ti è toccata più che ogni altra donna la parola più nobile e la sorte più crudele la famiglia di Priamo e la nostra città hanno sofferto il bollore rovente di questo tremendo patire necessario per volere dagli dèi figlia non so verso quale dei mali io debba volgere il mio sguardo tanti ce ne sono se mi accosto a uno quello non mi lascia ma via da quello un qualche altro dolore di nuovo mi chiama scambiando male con male e ora quello che tu hai sofferto non lo potrei cancellare dalla mente tanto da soffocare il lamento ma l'eccesso di dolore sei tu che me l'hai tolto tu e la tua nobiltà che mi è stata annunciata non è strano la terra cattiva può portare buone spighe si ottiene dagli dèi una stagione propizia quella buona produce frutti cattivi se manca di ciò di cui ha bisogno tra gli uomini però un malvagio non è nient'altro che cattivo chi è nobile nobile le sventure non distruggono le qualità con cui è nato la sua eccellenza rimane chi è che fa la differenza i genitori o l'educazione certo anche essere cresciuti come si deve può insegnare ciò che è nobile e se uno impara bene ciò che è nobile conosce ciò che è disonorevole per averlo appresso scusate e se uno impara bene ciò che è nobile conosce ciò che è disonorevole per averlo appreso con la regola del bene ma questi pensieri sono frecce scagliate lontano dal bersaglio tu vada agli argivi e dà questo messaggio che nessuno tocchi mia figlia che la massa sia tenuta lontana da lei quando l'esercito è così numeroso non si può tenere a freno la massa meglio un incendio che marinai sfuggiti al comando chi non fa nulla di male passa da vigliacco tu vecchia mia serva vai a prendere una brocca immergela nell'acqua del mare riportala qui perché io possa lavare mia figlia gli ultimi lavatri sposa e non sposa vergine e non vergine ed esporre il suo corpo non così come spetta il mio rango che mezzi no non potrei lo farò come posso che altro fare mettendo insieme gli ornamenti con quello che hanno le schiave che dividono con me l'alloggio in questa tenda se qualcuna di nascosto dai suoi padroni è riuscita a rubare qualcosa dalla propria casa scusate lo farò come posso che altro fare mettendo insieme gli ornamenti con quello che hanno le schiave che dividono con me l'alloggio in questa tenda se qualcuna di nascosto dai suoi nuovi padroni è riuscita a rubare qualcosa dalla sua propria casa 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 splendida casa prospera una volta e tu priamo il più beato di tutti una volta per ricchezze e per figli e io vecchia madre di tanta prole a quale nulla siamo giunti come ci hanno strappato il nostro orgoglio di un tempo e poi ci gonfiamo di superbia chi di noi per le ricchezze della casa chi perché il suo nome riceve l'onore dei suoi concittadini perché non vale nulla tutto questo pensieri che decidono lingue che si vantano in vano la felicità più grande per un uomo è giorno dopo giorno non incappare nel male colpisce in questa scena la compresenza dell'eroico patetismo del sacrificio con una nuance erotica del denudamento di questa eroina donna combattente che muore da soldato offrendo il proprio corpo il proprio seno nudo alla vista dei soldati in questo modo Polissen esibisce la sua spiccata femminilità e incute timore reverenziale nei suoi stessi carnefici i quali si spingono ad onorare il suo corpo col lancio di foglie come si suole fare ad esempio con gli atleti vincitori e col lancio di offerte la pira un vestito un ornamento per le mani come si fa con le vittime sacrificate ed evita così che del suo corpo si faccia scempio post-mortem sacrificando liberamente la propria vita ella decide di non vivere da schiava e di non morire da vile ed in cambio ottiene di mantenere il proprio status di donna nobile donna bellissima Polissen che non rinuncia neanche in punto di morte a lasciare memoria anche in chi la uccide della sua bellezza statuaria e riveste così di un eroismo virile la sua femminilità a questo punto tornano in mente le parole della Alexievich con cui ci piace concludere così come abbiamo aperto questo nostro incontro di qualsiasi cosa parlino le donne in esse alberga un'idea che non le abbandona mai la guerra consiste prima di tutto nell'ammazzare in secondo luogo in un lavoro massacrante e da ultimo è fatta delle solite cose quotidiane cori innamoramenti bigodini nei capelli ma soprattutto le donne non possono sopportare accettare l'idea di poter morire e ancor meno quella di dover uccidere perché la donna è colei che dà la vita la dona la custodisce a lungo dentro se stessa la culla e la cudisce ho capito che per le donne uccidere è più difficile e appunto come ci ha fatto capire anche Polissena per le donne è anche più difficile morire grazie grazie